il tormentone estivo non sarà musicale ma materiale il nostro tormentone quest'anno saranno le mascherine per non trasformare però il tormentone in un incubo dando per certo che nella fase 2 ovvero riprendere una parvenza di vita normale convivendo con il virus in circolazione dovremmo utilizzarle quotidianamente molte amministrazioni comunali quindi abbiamo visto in questi giorni che sono passate all'azione con gli stessi primi cittadini che fanno il porta a porta anche fano affronta questa necessità ma con un approccio filosofico diverso del poco per tutti una mascherina a cittadino è ben poca cosa se pensiamo alla frequenza di utilizzo che ne dovremmo fare pensando soprattutto e privilegiando invece categorie specifiche e più deboli come gli immunodepressi o gli over 65 anni o altre categorie per diverse necessità per queste persone è pronta una fornitura di 15.000 pezzi che verranno distribuiti gratuitamente a pacchetti di 5 per garantire così una decina di giorni di copertura per farne richiesta questi soggetti dovranno telefonare allo 0721 808142 dove dalle 8 alle 19 un addetto della protezione civile riceverà le loro richieste le mascherine chirurgiche sono monouso e quindi una volta usato un giorno magari uno che usa con parsimonia non è che tutto il giorno se le tiene le possono durare qualche giorno in più e allora abbiamo detto senza ipocrisia perché poi fare certe scelte magari se hanno qualche like in più si fa bella figura ma non so se si fanno sempre le scelte più giuste magari si manda la letterina al cittadino vota antonio io queste cose non le faccio francamente allora noi siamo 60 mila cittadini se acquistiamo 60 mila mascherine per un giorno facciamo una bella cosa per un giorno ma poi il giorno dopo si ripresenta il problema allora abbiamo fatto questa scelta intanto prepararci per quando arriverà il momento in cui occorreranno tutti i giorni per la quasi totalità delle persone o da una parte da lunedì noi inizieremo a distribuire agli over 65 a coloro che ne fanno richiesta che ne hanno bisogno perché alcuni ce l'hanno già quindi non questo da lunedì in più abbiamo una scorta di circa 7 mila mascherine che sono la prima mandata della protezione civile e queste qui le metteremo a disposizione dei tabaccai con cui stiamo dialogando abbiamo già concordato con i loro rappresentanti quindi coloro che si rendono disponibili le suddivideremo queste e le distribuiremo ad ognuno di essi e qui ogni cittadino che vuole può andarne a prenderne una ovviamente fino ad esaurimento della scorta poi se ci sarà bisogno ne riacquisteremo delle altre l'altra cosa che voglio sottolineare e che noi ci stiamo attrezzando anche per fare in modo che nella città nei prossimi periodi quando ci sarà una richiesta maggiore ci sia una disponibilità totale di mascherine delle farmacie insomma in tutti quei luoghi dove possono essere vendute anche ad un prezzo calmerato quindi abbiamo dato mandato anche ad ase attraverso le loro farmacie di fare un acquisto importante di queste mascherine appena saranno certificati in modo tale che ci avrà anche un prezzo calmerato quindi a portata di tutti per garantire una disponibilità costante e frequente che ci avrà anche un prezzo calmerato quindi qui ci avrà anche un prezzo calmerato che ci avrà anche un prezzo calmerato